Le celebrazioni di oggi hanno preso parte tutti i vertici istituzionali dal Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, appunto al Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ma tanto spazio è stato dato anche agli organi istituzionali della Chiesa, in primis il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, che ha detto che Napoli non è ancora al collasso, sì, è sull'orlo del baratro, ma tanto ancora si può fare. Noi siamo profondamente orgogliosi, orgogliosi perché non apparteniamo a quella fetta di persone che ritengono che bisogna stare con le mani tese a chiedere assistenza e a chiedere le luci. 70 anni fa in Napoli ha dimostrato che da soli hanno una loro dignità e quindi le nostre mani tese sono mani tese soprattutto verso i sogni, verso gli ultimi, verso quelli che vivono una crisi che non li fa sentire né con una dignità sociale né uguale di fronte alla legge. Questo paese è diviso in due per questo, è diviso in due perché distribuisce diversamente le proprie risorse, le proprie energie, però il richiamo del Capo del Stato richiama a dire facciamo di tutto, come abbiamo ricordato il 43, le quattro giornate, che quando c'è voglia e orgoglia si lavora bene e poi i risultati si raggiungono. Cardinale, oggi si parla di speranza, la parola d'ordine è speranza, lei però appena dieci giorni fa parlava di una città invece al collasso. Una situazione che può, io ho sempre detto, che può arrivare al collasso se non reagiamo e l'unica possibilità che abbiamo è quella di prendere il coraggio due mani e reagire, la speranza. Però ha speranza, non deve essere una parola vana, deve essere ingarnata in opere, in azioni. E qual è? Innanzitutto lavoro, 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 lavoro. Giovani, 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 giovani. Giustizia, 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 giustizia. Che cosa dirà adesso il Presidente della Repubblica? A Presidente della Repubblica dirò, intanto gli consegnerò le foto di queste mamme che si sono fatte fotografare con la foto del bimbo morto in braccio di cancro di leucemia nelle nostre zone. Ieri a Carinaro, ho detto che il cardinale già lo sapeva, il cardinale di Carinaro, proprio al suo paese, io ho celebrato il funerale di Marianna, otto anni, l'ultima in ordine di tempo, l'ultima bambina di otto anni morta di leucemia. Dal Santo Bono ci fanno sapere che nella nostra zona si sta morendo di leucemia molto più che altrove, soprattutto sono i bambini a pagare questo prezzo altissimo e noi non ne possiamo più. Gli eroi ci condannano, la morte di queste persone deve oggi servire a una qualità di vita migliore, ma guardate che Napoli sta rovinato. Il cardinale nostro l'altro giorno diceva che è sull'orlo di un collasso, che gli altri ne dicono, che c'è stata la gente che non può mettere il piatto a tavolo la sera. Siamo venuti qua a dire al Presidente, Presidente, ma tu sei campano come noi, è vero che il Presidente è il Presidente di tutti gli italiani, ma voglio dire sei campano come noi. E allora io gli vorrei chiedere questo, guarda quando tu arrivi e vieni a Posillipo, un conte Posillipo e un conte Caivano, un conte Posillipo e un conte Casal di Principe, lascia sta Posillipo almeno per un'ora, vieni con me, vieni dove è venuto Balduzzi, proprio sulle discariche di Caivano, vieni sulla campagna dove sono venuti i rifiuti tossici industriali. Sì, in effetti sono stati eventi tragici, però grazie al sacrificio di molti nostri concittadini ci hanno donato la libertà, la cultura, l'arte, il modo di esprimerci, perché quella guerra veramente è stata una dannazione per l'Italia. Se ricordo bene ci sono stati 5 milioni di morte e 10 milioni di feriti, quasi in ogni famiglia nostra ci sono state vittime. Non solo delle quattro giornate ma anche delle battaglie proprio di guerra di quel periodo.